Prima giornata, gironi Champions League 7 Cup Alaska contro il Poggi United Siamo nel campo 1 Ore 21.30 E' appena iniziata la partita Inaugurazione della fase Champions League Stiamo a Mirko Che si è appena ripreso da una brutta botta Penso sul polmone destro Che ha avuto una pallonata in pieno petto E' mancato il respiro Capitano Direttamente sul portiere avversario Sira Bella Arbite Davide Dario Olpe Dai insieme Sto ragazzo ha la maglietta a mezza manica e bianca non male Un nuovo giocatore del Poggi United presentato Titolo occasionale Semplicemente No Scusa Molto bene Bravo A parte Marino A parte Marino Ok 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 Pruno Stiamo innaugurando anche il nuovo pallone Nike Total 90 Giocherà nella fase finale con questo pallone Siamo che sarà molto gradito Ok Ma Sì, schiano che combina Cercava il tiro a giro Aspetta, aspetta No, a parte penso che era uscito uno Ce l'ho giusto, aspetta Ti è piaciuto, stanziato Siamo da qua, Bianca Gioca da ogni ufficio Aspetta, aspetta Sì, cosa è Grande gol Alaska in vantaggio Ci diamo anche il collegamento Dopo questo bellissimo gol dell'Alaska Un saluto da Max Ciao ragazzi